Ehi, impara? A parlare! Ah, non fa niente, parla, l'importante è sapere su un'altra. Non so nemmeno io perché è nato Pino Daniele come è nato, come autore, ecco. Io suonavo dentro le canzoni di Pino e nasceva questa magia. Quando lui ha iniziato con le sue poesie, per noi è stato un fatto naturale. Il linguaggio nostro è che soccato. Quello che ci univa era la grande passione per la musica. Io volevo imparare il contrabassio, ma è meglio che suonare. Insieme abbiamo passato degli anni fantastici. Come sei in quella giornata, così sei sul palco, così sei la sera quando crei delle cose. Le minodie di Pino sono già perfette. Aveva una sensibilità forte al contrapunto. La mia fortuna è stata quella via. Questa è la festa che ha scritto con Massimo. È il 77. Quell'orgoglio di avere anche noi un musicista così. Qualcosa stava cambiando. E questo è il rinnovo di Pino. Se sentite ancora oggi, nelle strade, nelle case di Napoli, Pino non fu, è. Noi andremo via. È il tempo all'esterno. Grazie! Grazie!